E di manovra, oltre che di nuove misure anti-Covid, discute la politica. Sonia Sarno e poi Francesco Maesano. Spinge sul taglio delle tasse il centrodestra che domani riunirà i suoi capigruppo di Senato e Camera per mettere a punto proposte condivise sulla legge di bilancio. A zerare IRAP per partite IVA e autonomi, chiede Salvini, che sull'emergenza Covid si confronta con i presidenti di Regione della Lega. Lavoriamo a soluzioni di buonsenso, dice, per garantire salute e lavoro. Siamo in perfetta sintonia con i governatori. I governatori della Lega sono uniti. Stiamo lavorando per le aperture, per evitare le chiusure, per evitare paure, per evitare che ai bambini venga esteso l'utilizzo del Green Pass, perché con i bambini bisogna andare assolutamente cauti. Forza Italia favorevole al certificato verde, rafforzato per i vaccinati e limitato per chi ha fatto solo il tampone. Solidarietà a Tajani per le minacce ricevute da presunti Novax. Berlusconi torna sul reddito di cittadinanza. Gli abusi non ne cancellano la necessità, dice e ribadisce. No, nuove tasse e taglio del cuneo fiscale. Chiediamo una riduzione forte della pressione fiscale, riduzione del costo del lavoro anche nel comparto agricolo e abolizione dell'IRAP. Da Fratelli d'Italia meloni in calza. Sui vaccini da soli non bastano. Poi sulle imprese italiane il 40% rischia di chiudere. Servono segnali. Sugli 8 miliardi che adesso si tagliano di tasse e non si è capito ancora dove. Cioè noi crediamo che la priorità sia far sopravvivere queste aziende e dare dei segnali di attenzione da parte dello Stato per chi eroicamente in una stagione come questa resiste. Siamo la locomotiva d'Europa nell'edilizia. Dai 5 Stelle Conte torna sul super bonus e ne rivendica l'impatto sul paese. Comportato e sta comportando una vera e propria operazione di rigenerazione.